Musica Rieccoci qua Yusuke, ciao ho scelto te per uscire oggi Pensiamo prima al nostro accordo, vorrei che mi duplicassi Allora l'altra volta ti ho fatto fare assorbi fuoco, facciamo rifletti ghiaccio adesso Voglio avere Yusuke che ci riesca a replicare tutte le carte di protezione nel caso mi servano Non è detto che mi serviranno ma potrebbero Quindi ora possiamo uscire assieme Ah deve avere molto tempo libero allora Sto ancora riflettendo su ciò che mi ha detto Kawanabe A proposito vorrei parlare con te e gli altri di una cosa Oggi hai un po' di tempo libero Sento di potermi avvicinare, sento che il mio legame si rafforzerà Vuoi uscire con Yusuke? Siamo venuti qui per questo Passiamo il tempo con lui Vorrei sentire anche altre opinioni, manderò degli inviti, vediamo chi può aiutarmi Vorrei vedere gli altri alle blank se non è un problema Nessun problema Yusuke Hai bisogno di noi e noi siamo qui Scusatemi se vi ho convocato tutti qui Il capo è stato così gentile da prepararci il caffè prima di uscire e fare compere Venendo al punto Ho una richiesta importantissima da farvi Spara pure La parte più difficile però la lascio a Phoenix Io posso aiutarti in qualsiasi cosa tranne che in matematica Davvero pensate che vi abbia convocati qui per questioni scolastiche? No, il fatto che intendo partecipare a un concorso per una mia opera Quella organizzazione della fondazione giapponese per il sostegno alle arti Ricordi Phoenix Devo vincere, dimostrando non solo le mie capacità Ma anche la purezza della mia passione Tuttavia non riesco a decidermi sul soggetto del dipinto da presentare Ci ho riflettuto a lungo Ma non mi è ancora venuto in mente nulla Quindi speravo che mi deste la vostra opinione su quale potrebbe essere il soggetto ideale Dipingi me? Che ne dici di Anne? Nuda! Vuoi piantarla una buona volta? A ogni modo, forse dovresti dipingere qualcosa che la gente trova bello Si ritorna sempre al concetto di bellezza Phoenix, secondo te quale può essere il soggetto adatto a rappresentare la bellezza? Morgana Non ho dubbi Anna Devi dipingere lei Lei è un soggetto sul quale mi sono molto concentrato in passato Già, c'hai creato non pochi problemi Ma ora ne conosco meglio il karate e non credo di poterne dipingere la bellezza Ah, giusto Aspetta un momento, che vuoi dire? Ti sembro stronza? Perché non posso ritrarre una bellezza pura come quella della Sayuri? Che fine ha fatto tutto ciò che ho appreso? Sai, non sono sicuro di aver capito cosa intendi per bellezza pura Voglio dire, sì, è un bel quadro Ma ecco, io forse non lo definirei una bellezza pura Non so, forse l'associo più al concetto di dolcezza Lo dico sinceramente La prima volta che ho visto la Sayuri mi è quasi venuto da piangere Mi è sembrato di tornare bambina tra le braccia di mia madre Di sentirmi protetta, di sentire e dire che andava tutto bene Ecco cosa mi ha ispirato quel quadro Questa meravigliosa dolcezza Lo dico però, d'assoluto ignorante in materia Dolcezza No, ho saltato un pezzo, scusami Scusami Yusuke, ti ho distrutto il momento Ecco un altro aspetto della Sayuri che non riesco a... Che il mio cuore sia troppo foscato Per me sei fuori di strada, amico Tu dici, eppure un tempo dipingere era l'unica cosa che desiderassi Non avevo bisogno di altro Ma ora, ora Ora sono sopraffatto dal bisogno di dimostrare quanto valgo a Kawanabe e al mondo Disprezzavo Madarame per la sua avidità, di fame, di denaro E ora anch'io bramo le lodi altrui A dire il vero, spesso mi ritrovo a rimpiange di aver rifiutato l'offerta di Kawanabe Sarebbe questa la mia pura passione Il mio cuore offuscato da desideri mondani Da quando ti abbiamo conosciuto comunque Yusuke, sei molto maturato Cosa? Questa bruttura mi avrebbe fatto maturare Phoenix hai ragione Non c'è nulla di male nel fare quel che si può per guadagnarsi da vivere Eh, vero E tu vuoi solo che qualcuno riconosca il tuo valore, no? Mi pare che la passione non ti manchi Ma come può nascere la passione da pensieri così ripugnanti? Senti, quando ero nella squadra dell'atletica ero esattamente come te Vero? Posso confermare Volevo solo mettermi in mostra e vincere per farmi chiamare Sakamoto Senpai dalle ragazze Ma nonostante questo, di fatto cercavo di dare una mano alla mia squadra Sì, è uno sport individuale Ma nessuno corre fino a star male se non vuol dare la carica agli altri Voglio dire che per riuscire non devi fare le cose solo per te stesso Ma anche per gli altri E così dunque Quindi la genuina dolcezza della Sayuri Il calore che emana In realtà è rivolto a chi guarda Interessante Ah, ho capito Eh, che hai capito? Che sono stato un idiota Che la bellezza non è una cosa superficiale Che è qualcosa che si accumula nel profondo del cuore Finché non esplode Che è un dono fatto dal soggetto a chi guarda Sì, ecco finalmente la verità A voi tre va la mia più sincera gratitudine Mi siete stati di enorme aiuto Davvero Ah, esattamente E come? In qualche modo siamo riusciti ad aiutare Yusuke Sento che il mio legame si è rafforzato Ti abbiamo aiutato ma non so come Stoicismo, perfetto Anche questa abilità molto utile E stasera, visto che è martedì come dicevo Usciremo Sì, finalmente il mio pennello si accosterà alla tela in perfetta armonia Con permesso Vado, corro Non so come l'abbiamo aiutato Cavolo, è più strano del solito Però mi sembrava molto ispirato Quindi è tutto a posto, no? A ogni modo, avete fame ragazzi Quando il capo torna vorrei chiedergli di prepararmi qualcosa Forse il curry Oh cielo, quanto mangi E poi non avevi iniziato a fare la dieta E cos'è questa storia? Che sei brava in tutto tranne che in mate Non ti... non si dicono le bugie Non è una bugia È solo che prendere buoni voti all'asciugine è molto difficile Io sono il primo della classe Ma se i tuoi voti fanno pena Come hai potuto pensare che Yusuke ti chiedesse di studiare con lui? Ehi, stronzo Io, Anna e Ryugi siamo stati bene insieme Si sta facendo tardi Forse dovrei accompagnarli alla stazione Oh, poveracci Ok, fino ad ora Anna è quasi completata Ryugi è completo Makoto e Yusuke siamo lì lì Oh, un'altra andata di calore Quando finirà? Chi è che mi scrive? Ah, voi due Ottimo, ottimo, ottimo Però, mi dispiace Ma c'ho altro da fare stasera Vediamo se Akechi è disponibile No, non è disponibile Ma tanto lo sapevo Quindi stasera Jets Club È il Jets Club dove ti ha portato Akechi? Luoghi simili ti aiuteranno a rilassarti E a parlare di cose che di solito ti metto in difficoltà Mmm, come leader del ladri fantasma Forse potresti invitare un membro del gruppo qui Non è una brutta idea Oh, a quanto pare i minorenni servono cocktail analcolici Collici analcolici Sembra che il cocktail di stasera sia lo Spritz Plus Il gusto del drink conferirà potere e fortuna Potrai difenderti da qualunque cosa Interessante Sembra che in alcuni giorni venga un cantante Oh, guarda Oggi dovrebbe esibirsi un cantante Che fortuna sfacciata Ma guarda un po' Vuoi andare? Ti costerà 3000 yen Fammi solo vedere una roba prima Visto che aumenterà il nostro potere Quindi attacco fisico Vediamo Ryuji è al 39 E Yusuke al 42 Vorrei invitare Yusuke però Anche perché Yusuke è forte di attacco Ma di resistenza un po' di meno Quindi Per stasera invitiamo Yusuke Dai Facciamogli sto regalo Visto che l'abbiamo aiutato anche oggi Invitiamo Chi inviterai? Yusuke Oh, Yusuke? Sì Allora, farò una passeggiata Fammi sapere quando si torna a casa Come faccio? Non hai un telefono Come ti chiamo? Mmm, sei tu Eri con Hckun l'altra volta Mi chiamo Muhen Sono il direttore di questo jazz club Gli amici di Hckun sono i benvenuti Tuttavia, come è scritto sul cartello all'esterno Non posso servirti alcolici Mi dispiace Ma dovrei farti bastare i drink analcolici Ma ehi Gli analcolici sono altrettanto buoni Il coperto viene 3000 yen Bene Dalli pure a me Tieni Quindi 1500 testa o 3000 per me? Trova un posto libero per sederti Mi raccomando Cerca di non disturbare, ok? Dai, ti voglio aiutare ancora un po' Yusuke Sia con la musica Che con l'ambientazione Pensavo stessimo entrando in una catacomba Ma in realtà Non è affatto male La sento L'ispirazione che scorre in me Stanotte non chiuderò occhio Sono felice di averti aiutato ancora di più Yusuke La senti Questa voce è capace di smuovere l'anima Non c'è dubbio L'arte va sperimentata di persona Ah, il mio cuore palpita Sono felice di averti aiutato Yusuke oggi In tanti modi Delizioso Le varie parti sono mescolate alla perfezione Senti, sto per dipingere Quindi questa cosa mi aiuterà Andando in cerca di modelle Spesso mi rendo conto che nella loro anima Non alberga la medesima bellezza Molte equivocano pensando che non volessi far altro che provarci È dura chiarire tale fraintendimento La situazione più spinosa si verifica quando mi chiedo di essere amici Ma io non ho tempo che per l'arte Già, lo so Ho chiacchierato un po' con Yusuke È stata una bella serata questa Abbiamo finito di parlare Per parlare a lungo Forse è dovuto all'atmosfera che si respira in questo luogo Conservare e conversare con un amico E riflettere su me stesso È stata una sensazione che non mi dispiace affatto Passare il tempo con Jet Scrub Mi ha avuto un effetto sul cuore di Yusuke 39 Quindi 3 a forza 3 a resistenza E 2 a fortuna Scusa se ci è voluto tutto questo tempo Ma ti ringrazio per avermi portato qui Credo che sia ora di tornare a casa È stata proprio una serata ben spesa Già, è stata proprio un'ottima serata Ci vediamo Gatto Jezza Quindi dovrei essere andato A 5 volte al Jet Club Credo Vediamo Chi è che mi scrive oggi? Piani per oggi Quali sono i più oggetti per oggi? Non riesco a calmarmi Per questo sono venuto a Shibuya Solo per sapere cosa stai facendo Fammi sapere se succede qualcosa Per un altro po' rimarrò alla stazione Lady Anne è ancora a Shibuya Vuoi andare da lei? Beh, non è che io abbia altre opzioni Mi sa oggi Anche se in realtà Anne non vuole uscire con me Vuole solo passare il tempo Non c'è nessuno disponibile oggi Oh no Oh no Che giornata Livello medio dei giocatori 35 Io a che livello sono? Noi siamo al livello 43 Un po' Un pochino alto Rispetto alla media Mi chiedo Se posso andare a giocare a freccette Già di mattina Non penso Visto che sono già qua Potrei approfittarne Per andare Al tempio A riflettere Però a questo punto Sarebbe meglio la palestra Con la palestra Almeno vado sul sicuro Vediamo Io non penso che le freccette Ci posso già andare di mattina Ma nel caso Vediamo Benvenuto Vuoi giocare a freccette O a biliardo? Per 800 yen Puoi giocare a quello che vuoi Biliardo Ok chiamiamo gli altri E riuniamoci Partita biliardo? Sì Visto che così Almeno Arriviamo Al rango tecnico Massimo Perfetto Non sapevo Ci potessi andare Anche di mattina Eccomi Cominciamo Ma c'è Ho appena notato Che c'è un Un idrante In mezzo alla sala La tensione Prima della partita L'amo Tacchete Che colpo Il modo in cui Queste palle Sono disposte Ho bisogno Di fare un tiro Difficile Quella posizione Stai per fare Quel tiro Tacchete Clic La madonna Quello sì Che era un tiro Ma se Ehi Sei un pro Sei riuscito Davvero a piazzare Quel tiro Ecco perché Sei il nostro leader Sembra che la tua sfida Abbia toccato Il cuore di tutti Perfetto Rango tecnico Massimo Technical damage Plus 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 E atterrerà Il nemico Di sicuro Perfetto Anche se non vince È divertente Spedire le biglie in buca Mi fa piacere Che tutti si siano divertiti Devo ammetterlo però Giocando a biliardo Credo tu abbia imparato A fare scelte coraggiose Nei momenti cruciali Quindi ho aumentato Il mio coraggio Vediamo Sì coraggio Guarda quanto tempo è passato Ed è stato assolutamente appagante Beh mi fa piacere Aver occupato questa mattinata In modo utile Ora dobbiamo occupare la sera Vediamo se ci scrive qualcuno Non sapevo Si potesse andare anche lì di mattina Non mi era mai capitato Vediamo Mancano 11 giorni Alla scadenza di Madge I ladri fantasma Avranno deciso di ignorarla Ho sentito che un altro scandalo È stato rivelato Le azioni sono crollate Dall'ora Chi se ne prenderà la responsabilità? Ah Non lo so Non noi Qualche grado in meno andrebbe già bene Ma c'è una pioggia incredibile Là fuori Su giro Non va bene La purificazione si avvicina È veloce Se non troviamo una soluzione Non la passeremo Lisha Parlando di Madge La gente continua a discutere Le fughe di notizie Il cappio ci sta stringendo al collo Futaba ci salverà Speriamo bene Ma non è pericoloso puntare tutto Su una sola mano Su una mano sola L'unica cosa che ci salva È che Madge Sembra determinato A rispettare la scadenza Dobbiamo solo continuare A provare fino ad allora No? Già E comunque è inutile Pensarci adesso Continuiamo a provare A provare cosa? Sei libero oggi? Fammi controllare Sono libero ma tu Non giochi Quindi Stasera no I fumi Vediamo Kikyoji Non c'è nessuno E mi sa che l'unica disponibile oggi È proprio i fumi Punterei ad andare in palestra Stasera Punterei proprio ad andare in palestra Aspetta Mi stavo dimenticando una cosa Mi stavo dimenticando una cosa A parte il fatto che piove Potrei prendere le proteine Ma è passato il mese E non ho preso quelle di importazioni Quelle sono importanti Anche se sono pieno di frullato Iperproteico Ho sbagliato Devo prenderlo Quelle di importazione Eh Eccole qua Costeranno 8000 yen Però Valgono la pena E dai Prendiamo anche questo Visto che siamo già qui Dai Facciamo un mega compere oggi E ora Dritti dritti Al protein lovers Vediamo Faremo ancora i pesi Questa volta Cominciamo l'allenamento Vuoi prendere qualcosa Le proteine di importazione Le proteine Ne hai due Che ne dici Prendiamole Siamo qui apposta Glugate 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 Continuiamo così Sembra che ti sia allenato Fisicamente e mentalmente Vediamo 5 HP E 3 SP Vediamo l'iperproteico Quanto ci ha dato 5 HP E 3 SP Ho praticamente Raddoppiato Quello che ho guadagnato Oggi D'accordo Siamo qui da parecchio Torniamo a casa Vatti a fare una doccia Però prima Sarai Yusuke O Ryuji Direi Ryuji Ho indovinato No Yusuke Dato che siamo in vacanza Mi sa che rimarrò Un po' a casa tua Inoltre ho scoperto Una cosa interessante È un DVD Che parla della vita Di un pittore Pensavo che potremmo Approfittarne insieme Per il nostro amore Per l'arte Non è un problema Se già qualche programma Passerò comunque Ci vediamo domani Allora Così domani Vedrai Yusuke Potrebbe essere divertente Yusuke dovrebbe impegnarsi Sul suo dipinto In questo momento Perché viene a guardarti Un DVD Va bene tutto Però È la madonna che pioggia E continua a piovere oggi Ehi Phoenix C'è uno dei tuoi amici Sembra che Yusuke Sia qui Vediamo la mia pianta Se sta bene Vediamo Mi ha scritto Takemi Ok Vediamo C'è qualcun altro Makoto Ok Io direi di puntare Su Makoto Oggi Ma Makoto Sta sempre fuori Dalla scuola Ogni volta che piove Takemi Lo sai che prima o poi Verrò a finire Il tuo confidante Ma prima devo pensare A quello dei miei compagni Che ha un filino Più importante Stavo pensando Che in questi momenti Che ci sono i giorni In cui non hai Praticamente nulla da fare Potrei lasciare In isolamento Qualche persona Per farle potenziare Piano piano Ma il processo Di potenziamento Tramite l'isolamento È veramente lento E ti dà Veramente poco È veramente molto lento Makoto Arrivo subito Eccomi Ehi Makoto Ciao Non ci resta Che aspettare Oh Eiko ha detto Che deve chiedermi Un favore Ma finora Ho rimandato Potresti venire con me Quando la vedrò Volentieri Allora Intenzioni hai Passare il tempo Con Makoto Certo Grazie Sapere che sarà Accanto a me Mi rassicura Ci sta aspettando Al Big Bang Burger Andiamo Oh Gesù Allora Di cosa volevi parlare Ecco Mi chiedevo Se per caso Non potessi Prestarmi dei soldi Cosa? Eh esatto Non è una grossa cifra Però Mi serve adesso Ma ti restituisco tutto Giuro Ti prego Per caso C'entra qualcosa A Tsukasa? Aha Al lavoro Ho fatto cadere Per terra Una bottiglia Di sake Costosissima E devo ripagargliela Gli serve aiuto Devo o devo? Ha fatto Non ho fatto Scusami Ti sta mentendo Eiko Non dagli neanche un soldo Non sta mentendo Lo so che non ti va genio Il fatto che sia un host Ma non è come pensi tu Il mio Tsukasa È una persona gentile E onesta Mi chiama persino Principessa E chiama così Solo me Perché sono speciale E così Dice che Sei la sua principessa speciale Tu cosa ne pensi Fionix? Te lo dice a tutte Mi dispiace Sono d'accordo Qualsiasi ragazza Che gli dia i soldi È la sua principessa Così Così non corre il rischio Di sbagliare nome Non ti permette di dire cose simili Non hai nessuna prova Sì Questo è vero Ma hai chiesto a qualcuno Che lavora nel suo locale Se la storia della bottiglia rotta È vera? Beh No Ma lui mi ha detto Di non parlarne Con i suoi colleghi Non vuole che io vada A supplicare il suo capo Ti prego Makoto Sei l'unica persona Di cui mi posso fidare Tutti gli altri preferirebbero Concentrarsi sugli esami Da missione Anziché aiutarmi E chissà cosa direbbero I miei genitori Se chiedessi loro dei soldi Ti prego Anche solo una parte Io credo Che dovresti lasciarlo Se non lo farai Prima o poi Potrebbe spingerti A fare dei lavori Poco raccomandabili Oh ma lui Mi ha già trovato un lavoro Niente di strano però Servo da bere In un barde Per aiutare A ripagare la bottiglia rotta Dice che sono molto portata E forse Continuerò anche dopo le superiori Dopotutto non credo Che andrò all'università Eiko Non puoi fare sempre Tutto quello che ti dice Sta cercando Di ingannarti Una persona intelligente Come te Non potrebbe mai capire Tu andrai In una buona università Lavorerai in una Grande azienda E poi Alla fine la tua vita Sarà terribilmente noiosa Davvero E questa è la vita Che vuoi Io Ancora non lo so Ma Sia come sia Una cosa è certa Devi stare il più lontano Possibile da quel tipo Quindi non vuoi aiutare Lascia perdere Posso farcela da sola Mi basterà uscire Con qualche cliente Dopo il lavoro Eiko aspetta Non volevo dirtelo Ma Tsukasa Mi manda continuamente messaggi Ultimamente Mi ha chiesto Se io e mia sorella Viviamo da sole E che sarebbe felice Ad aiutarci Oggi stesso Mi ha chiesto Se sono felice Con il mio ragazzo Dammi retta Reiko Eiko Non tiene a te Non dire stronzate Tsukasa è così gentile Da preoccuparsi anche Di miei amici E poi Aspetta un momento Messaggiavi con lui Alle mie spalle Makoto Più che altro Era lui A messaggiare con me Ah Hai già gli ottimi voti Sei bella È un bel ragazzo E davvero non ti basta Io ho solo Tsukasa Non posso permetterti Di portarmelo via Non è assolutamente Quello che sto cercando di fare Sì certo Beh tieni giù le mani da lui Se me lo rubi Makoto Non te lo perdonerò mai Mamma mia Quanto è stupida questa Lei è solo Tsukasa Eiko Mi sembra esattamente Il tipo di ragazza Che può cadere Preda di bande Di Shujin Sola Depressa E senza nessuno Con cui sfogare Le proprie frustrazioni La famiglia di Eiko È piuttosto benestante Tuttavia i suoi genitori Hanno occhio Solo per il fratello minore Che è molto dotato Sono certa che sia questo Il motivo per cui Si è innamorata di Tsukasa La fa sentire speciale Però Non è normale Che una persona innamorata Chieda dei soldi A una ragazza adolescente Questo lei Deve capirlo Mi aiuterai vero? Assolutamente Grazie Grazie Sentirtelo dire Mi rassicura molto Eiko è fortunata Non ha problemi di soldi È una famiglia Eppure Cerca di essere indipendente È quasi l'esatto opposto di me In un certo senso In lei Mi sembra quasi di rivedermi Quando è Come ero qualche tempo fa Ero così accecata Dalle mie convinzioni Da non considerare Neanche punti di vista alternativi Però Vivere così è sbagliato E voglio dimostrarglielo Proprio come hai fatto tu con me Oh Makoto Certo potremmo risvegliare il cuore di Tsukasa Ma piuttosto Dobbiamo farle aprire gli occhi a lei È una scelta molto più Saggia Secondo me So che non vuole che mi impicci Ma se non facessi qualcosa Non me lo perdonerei mai Qual è il modo giusto di vivere? A ogni modo Smaschereremo quella persona orribile Ti avviserò Non appena avrò un'idea su come fare Va bene Aspetterò Grazie ancora per oggi Ci si vede Ciao Makoto Buona serata Pamparam Nanananan Dan tan 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 Kaetta ka Chi mi scrive? Sono alla mia bancarella Sì A fare niente A sto punto O continuiamo Mishima Oppure Non saprei cosa fare Dai Andiamo da Mishima Anche se il gioco mi consiglia di fare Oya No Non la voglio fare Oya Va bene? Mishima Ragazzo fortunato Ciao Oggi uscirò con te I ladri fantasma sono praticamente Inarrestabili Vi adorano tutti Come me del resto Ti sei occupato di quella richiesta? Grazie Ehi C'è una cosa di cui vorrei parlarti Della massima importanza Pensi di avere un po' di tempo per me? Sì Perché no Io continuo a chiedermi perché non mi dia il confidente l'una Forse perché ne ho due Ma Non lo so Passiamo del tempo con lui Sei l'unica persona con la quale posso parlarne Sarebbe meglio andare in un posto tranquillo Che ne dici del parco Inokashira? Sempre lì finisco In quel posto Ho delle info fantastiche per te Vediamo C'è nessuno Posso parlartene Riguarda il prossimo obiettivo Dei ladri fantasma È una bomba Beh dimmelo allora So che non stai nella pelle Ma non mettermi fretta Ecco il tizio È un giovane attore Che ultimamente ha guadagnato parecchia popolarità Recita benissimo È abile a conversare E ha anche preso parte A tantissime pubblicità Se gli risvegliate il cuore Tutti dovranno iniziare a considerare Ladri fantasma È immischiato di sicuro In qualcosa di losco Me lo sento Le prove? E no Non lo dico Spinto dall'invidia Ho saputo che una famosa idol È caduta dalle sue grinfie Dovete intervenire Per i suoi fan Le voci però Non sono mai sicure Mishima Ci sono fonti? No Deve essere questa La vera natura Di quella gentaglia Che lavora Nell'intrattenimento In ogni caso Non è vostro compito Ascoltare i desideri della gente Dovete risvegliargli il cuore Insomma Sarebbe la miglior pubblicità Che possiate farvi Beh È una bella tattica No Non sono un manager Coi fiocchi Aspetta e vedrai Renderò i ladri fantasma Noti al mondo intero Verrete sommersi Di richieste Mishima Mi stai montando Fin troppo La testa Mi dispiace dirtelo È comunque Stata una roba veloce Proprio così Sono il manager Dei ladri fantasma Non sono noioso Non sono una nullità Ehi Prendi il telefono Ti ho inviato i dati L'attore Perché 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 Non preoccuparti Questa richiesta Aumenterà la vostra fama Garantito Del resto È solo merito mio Se siete arrivati fin qui Ho sbaglio Certo Ottimo lavoro Mishima Pacca sulla spalla Già È tutto Merito mio È tutto Merito mio Il successo Del ladri fantasma È farina del mio sacco E loro stanno Cambiando il mondo Questo significa Che io Sono responsabile Di quei cambiamenti Significa che non sono Una nullità Mi raccomando Esamina le info Che ti ho inviato Ti farò sapere Se scopro altri dettagli Ciao Mishima Cazzo È anche tu però Va bene tutto Però Non è che ti devi Montare la testa così Mancano solo Dieci giorni Alla scadenza Di me Jed Che stanno facendo Del ladri fantasma Hanno intenzione Di lasciar fare A me Jed Come gli pare Cosa sta facendo Cosa sta cercando Di fare Me Jed Avrà ripercussioni Su di noi Non c'entriamo nulla Sempre a lamentarsi La gente Sempre a rompere i coglioni Santo cielo Chi è che mi scrive Sei libero oggi Oh Ho messo giù No scusami Han Ho messo giù Per sbaglio Conquadrato È il tuo giorno libero Vai da qualche parte Oh E mangia il tuo carry Prima che si raffreddi Ho messo giù A Dan Non volevo Abbiamo ricevuto Un invito a uscire Prima di rispondere Finiamo di mangiare Non sapevo potessi Mettere giù il telefono Non l'ho fatto apposta Han Scusami Accidenti Che caldo Quindi Mi ha scritto Han Han Sei libero oggi Scusa Lo so che è una cosa improvvisa Ma vorrei portarti In un posto Uh Han Siamo a rango 10 Vero Siamo a rango 10 Dopo che l'ho detto di no Oh no Però Visto che non c'è Nessun altro Oggi Il tuo secondo risveglio Sta per arrivare Non ho i brividi Perché Mi dispiace ancora Averle detto di no Mi dispiace davvero tanto Vediamoci con Han Andiamo Ah Devo confidarti Che sto per fare una foto Per una rivista E per un articolo personale Su Su di me E mica intitolato Due modelle viste da vicino Bel colpo eh Il servizio si tiene Al Seaside Park Ci vediamo lì Arrivo subito Han Questa è l'ultima volta Che usciremo con Han E Appunto Essendo il confidante Non amoroso Non so cosa devo rispondere E non fare più cose del genere Intesi? Ok Non lo farò più Che succede? Oh Ah già Anche tu eri tra le vittime Glielo posso dire Mica Chan Già Ricordi tempo fa Quando capitava Che le modelle Non si presentassero Alle sessioni Ah si Mi ricordo Beh A quanto pare Era mica Chan A contattarle Per conto dell'agenzia Dicendo che il luogo Era cambiato Giravano voci Sul fatto che potesse Essere lei Ma pensavo fossero Dettate dall'invidia Dopotutto I servizi che ha fatto Da sostituta Hanno incrementato di molto La sua visibilità Oggi le ho chiesto Se ne sapesse qualcosa E lei mi ha risposto Soltanto Mi dispiace Ho fatto una cosa terribile Ho creato tantissimi problemi A tutti Ma d'ora in poi Mi impegnerò ancora di più Lo prometto A ogni modo Cominciamo Sei pronta Vero? Sì Dio mio Davvero hai fatto una cosa così Penosa? Penosa Dici? Di modelle ce ne sono un'infinità Se non ti fai largo da sola Di pure addio alla carriera Le opportunità non capitano Aspettando Per avere successo Bisogna costruirsele Sei davvero incredibile È colpa tua È colpa tua Se non sfondi Se non riesci a salire la china Fai meglio startene a casa E comunque il talento Non mi manca Avevo solo bisogno Di un'opportunità Adesso Vado Vado a ruba Ti atteggi tanto Però Ti hanno scoperta Sì Ma me la sono cavata Con delle minime scuse Sarebbe stato stupido Stupido negare E poi adesso Non gli conviene licenziarmi Qualcuno mi odierà Ma ora diventerò Ancora più famosa Sei come la cattiva Che ammiravo da bambina Bella Forte E malvagia Se devo essere sincera Non riesco ad odiarti Beh Io non ho alcuna difficoltà Ad odiare te Mi dispiace Mica Ma per quanto potrai impegnarti Arriverai solo seconda Sarò io La numero uno Adesso Sei più popolare Ma io ti supererò E lo farò onestamente Mmm Va bene Niente più trucchi Ti batterò con la bellezza Onestamente Intese La sezione di scatti È iniziata Anna e Mica Sorridono Raggianti All'obiettivo Sì Così Da questa parte Ehi Ma quella non è Mica Wow Dal vivo ancora più carina È Mica Oh e c'è anche Han Sono carine tutte e due Chissà cosa mangiano Per avere quei corpi simili Com'è ingiusto il mondo Impegnati magari Saranno anche nate belle Ma per avere un corpo del genere Non puoi non andare in palestra Wow Che posa Fammene qualcun'altra Così Qualcosa è cambiato in Han-chan Sì Adesso è molto più sexy Forse ha acquistato maggiore sicurezza Nei suoi mezzi Ok Facciamo una pausa Va te cambiare Mica-chan Che divertimento Oggi è andata tutto alla grande Allora Come sono andata? Si complimentavano tutti Sei stata bravissima Davvero? Ma è fantastico Non ne sono sicurissima Ma credo di essere cambiata Vero? Lo so che ho detto di voler diventare la numero uno Ma per adesso Va bene anche così Per adesso Voglio soltanto migliorare Un passo alla volta E poi un giorno Finalmente potrò essere fiera del mio cammino A questo punto Lei diceva invece che Noi saremmo stati fieri di lei Oh no Anna Mi dispiace E forse la gente noterà la sicurezza che avrò acquistato E ne sarà ispirata Diventerò un raggio di luce per la gente di tutto Tutto il mondo Come lo siete stati tu e scio per me Puoi farcela Anna Sì Hai ragione Grazie Phoenix Sei la mia luce Ok Pausa finita Anchan In questa sessione ci concentreremo su di te Ok Ehi Ehi Non te ne andare Così dopo possiamo stare ancora un po' insieme Ok Ah 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 Anna Come sei Oh no Il percorso di Anna è bellissimo Veramente Uno dei migliori Veramente Ho l'impressione che Anna stia pensando a qualcosa Quando ho conosciuto Shio Quando mi ha salvata Ho capito quanto siano importanti i rapporti tra le persone Ecco perché non voglio più fuggire Voglio affrontare le mie paure E questa volta sarò io ad aiutare gli altri Ma non sono ancora Sono ancora un po' preoccupata Pensi di potermi aiutare Phoenix Certamente Anche tu puoi Puoi fare affidamento su di me Se ne hai bisogno Lo faccio già Oh no Mi sento come se finalmente Fossimo davvero sulla stessa lunghezza d'onda Phoenix Sono felice di averti incontrato Oh no Sono triste Io sono te e tu sei me Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue Questo legame diverrà le ali della ribellione Spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore Hai infine disvelato il segreto più recondito degli amanti Che ti conferirà un potere infinito Anne Secondo risveglio Mi dispiace averti detto di no Credimi Sei uno dei confident Più belli a livello di storie d'amore Ma non potevo Non potevo sceglierti Mi dispiace Ho già fatto la mia scelta Però la sua nuova persona a me piace È molto più Più cattivella E sento crescere in me un nuovo potere Carmen è la persona di Anne Si è trasformata in Hecate Però la sua terza trasformazione Mi piacerà molto di più Wow Questo non significa che smetterò di contare su di te In fondo sei un membro a vita del mio fan club A vita? Ci siamo detti per sempre no? Già A ogni modo Mangiamo prima che si freddi Buon appetito Anne Evita il ghiaccio Perfetto Lo mettiamo al posto di Vulnerabilità del fuoco Non la useremo praticamente mai Quell'abilità Un'altra ondata di calore Quando finirà? Oh so giro Notizie degne di un articolo Se c'è qualcun altro con cui passare il tempo Piuttosto che passarlo con te Ci vado No Credo che Oya sia l'unica con cui poter passare il mio tempo stasera Ok Ci pensiamo Va bene Andiamo da Oya stasera allora Visto che tanto Non c'è molto altro da fare Abbiamo un'altra estate calda quest'anno Credo che infrangeremo qualche record di temperatura Ma di certo non mi disperirei se i record degli scorsi anni rimanessero intatti Comunque questo è il miglior momento dell'anno per una bella birra ghiacciata Ubriacona maledetta Hai sentito qualche pettegolezza interessante? La mia scadenza è vicina e sono a corte di materiale Ti lascerei in mezzo a una strada Giuro tanto sei simpatica Siediti ti offro qualcosa Mi posso avvicinare grazie a incubo Perfetto Cosa vuoi fare? Vuoi dargli una mano? Non vorrei però Sul serio? Da come lo dici devi avere informazioni interessanti No non ho con chi passare la serata di meglio Dammi i dettagli dell'incidente con Kamoshida Beh io vado a farmi un giro Fammi sapere quando sei pronto ad andare via Vorrei andarmi via il prima possibile Morgana Capisco Una bacheca eh Quindi la lettera di sfida usata per Kamoshida era diversa Qui questa sì che è una notizia Di solito queste informazioni non vengono diffuse Hai qualche foto o video? Io no Mamishima forse sì Ottimo Hai dei contatti interessanti È lo stesso ragazzo che ha intervistato già la prima volta Eh 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 Certo che i ladri fantasma di Cuori Sembrano ragazzini al parco giochi Non eroi che lottano per la società Insomma Si danno tante aree Ma alla fine è indubito che siano davvero all'altezza All'altezza? In che senso? Già Che c'è? Non crederai sul serio che siano virtuosi vero? Nel mio lavoro la benevolenza è segno inequivocabile di disonestà Come per le organizzazioni di beneficenza ambigue o l'assegnazione di premi per la pace Lo stesso vale per i ladri fantasma Devi imparare a prendere le cose con le pinze Andiamo Andiamo non essere negativa Perché? È la verità Ci risiamo Un tempo eri ottimista Oh sta zitta Il passato non ha importanza Dammi un po' di sushi È finito Ehi perché non torni ad occuparti di politica? Non posso Sono stata riassegnata in modo permanente al settore cultura e intrattenimento Che azienda ridicola Andiamo È già passato più di un anno dall'incidente Oh con incidente mi riferisco Non dire altro Non ha nulla a che vedere con la mia fonte Oh mi dispiace Ah dannazione mi sta passando la sbronza Riepi il bicchiere Lala Chan Per la miseria A volte sei davvero infantile Ehi vuoi da bere? Puoi dare un sorso dal mio Oh wow Hai un signor broncio Comunque se non bevi alcolici Perché vieni qui al locale? Per l'articolo Eh 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 Va bene Se sei un vero sostenitore del ladri fantasma Beh almeno ora so che mi sarei molto utile Personalmente non ho interesse nel ladri fantasma Ma continua a fornirmi informazioni ok? Guarda lo faccio solo perché devo Non per altro Mi stai pure antipatica santo cielo È uno dei pochi confident che Veramente non mi piace lei Perché ci metti tanto? Lala Chan Dov'è il mio drink? Ti chiamano escargot Perché sei lenta come una lumaca Ho finito le scorte Una giornalista ubriaca si è scolata tutto Non puoi andare a fare rifornimento Ti aspetterò per sempre Sto scherzando Wow È veramente Noioso Banale E fastidioso Come confident lei Ci vediamo Portami altre informazioni su cose ok? Cioè Le prime parti con Oya Sono veramente Tutte lei che si sbronza E niente più Cioè Solo monotonia Io stavo pensando di andare a ritrovo domani Ho davvero voglia di rilassarmi un po' Che ne dici di vederci e giocare a qualcosa? Oh non preoccuparti sei da fare So che So come tenermi occupato Ok A domani E Ryuji verrà qui domani eh Farò un gran casino come sempre E io vado a dormire Cioè Dico tanto di Chiaia Che anche lei è stronza Però Oya È proprio fastidioso Come confident Certo i suoi potenziamenti Non sono utili Ma Diciamo che si fanno valere Chiaia è molto più utile Sotto questo punto di vista Salva Reiko Ho pensato a tutti i modi In cui potrei salvare Reiko Ma il migliore raccoglie le prove Della condotta di Tsukasa Questa è la conclusione A cui sono arrivata Quindi sto pensando Ad andare a indagare Nel quartiere a luci rosse Se per te va bene Pensi di potermi dare una mano? Sì Penso di poterlo fare C'è qualche novità interessante O cose del genere Non voglio guastarti la festa Ma devi finire di mangiare Prima che io possa aprire bottega Certo so giro Mi sbrigo È un invito? Prima finiamo di mangiare Poi vediamo di che si tratta Ho già letto Si tratta di Makoto Ehi Phoenix C'è uno dei tuoi amici Sembra che Ryugi sia qui Ok però A me Tornare alle origini Yusuke Oh anche tu eh Cavolo Bella scelta Bella scelta Fra tutti e due Vediamo Allora con Makoto Dovrei essere Al nove adesso Cioè dovrei arrivare al nove Esatto E con Yusuke uguale Guarda Makoto Non è per cattiveria Ma Solo perché ho già Un imperatore Quindi non devo andare A spendere soldi Per Per Yusuke Dirò di sì a Yusuke E con te Vengo un'altra volta Va bene Yusuke Arrivo subito Ah però aspetta Prima Vengo da te Così mi duplichi una carta Come per le altre volte Ancora qualche abilità passiva E direi Rifletti elettricità Questa volta Va bene Dammi le carte Il mio pennello freme È come se fosse posseduto È venuta benissimo Prendi Grazie Yusuke Non so a che punto siamo Delle riflette assorbi E a nulla Però direi che Siamo a un buon punto Dai Ah Deve avere molto tempo libero Quali sono i tuoi programmi Per oggi Se possibile Vorrei che venissi con me Senti potermi avvicinare Il mio legame Si rafforzerà Allora hai deciso Vuoi passare il tempo Con Yusuke Sì Grazie dell'interesse Oggi vorrei Rientrare nel memento Ritengo che la verità Sulla natura del cuore umano Si cegli lì Andiamo Hai il memento allora Ah Yusuke Io mi concentro così tanto Su di te Perché la prima volta Che ho fatto tutti i confident Per mia colpa Ti ho dato veramente Poco spazio E mi dispiace Sei un personaggio Molto bello Anche se ci veniamo spesso Questo posto Non cessa mai di stupirmi Dove porta questo passaggio Mi sembra di esserne risucchiato Anche solo guardandolo Così Questo è il cuore dell'uomo È brutto E bello allo stesso tempo È questa duplicità Rendere gli esseri umani Un soggetto così interessante Ultimamente ero confuso Riguardo allo scopo Della mia arte Volevo essere apprezzato Cogliere la pura bellezza E ciò per via Del mio talento O della mia formazione All'inizio Ogni risposta Sembrava quella giusta Solo per rivelarsi Errata A un esame più approfondito Phoenix Secondo te Quando mia madre Era dipinto Sayuri A cosa stava pensando L'amore per il figlio Al dolore del distacco Tutti e due Sono tutti e due giusti Ora che mi ci fai pensare Anch'io noto un velo di tristezza Forse essendo malata Mia madre avvertiva L'imminenza della morte Tuttavia Non credo che pensasse Solo a quello A me sembra che la Sayuri Servisse a comunicare qualcosa A me Come a chiunque lo guardi Amore Rimpianto Solitudine Ansia Tranquillità E speranza Tutte le emozioni Provate da mia madre Sono messe a nudo Dinanzi all'osservatore Ecco perché produce Un così forte impatto In chiunque la osservi I miei quadri Impallidiscono Dinanzi a una tale Profondità di significato Come ho potuto Sperare di raffigurare La pura bellezza Con la mia tavolozza Limitata con me Eppure È stato quel dipinto A farmi andare avanti Per tutto questo tempo Nelle notti più difficili Addolciva la mia tristezza Tagliava la cupa oscurità Come un raggio di luce Anch'io Volevo creare Un simbolo di speranza Per gli altri Ma poi Ho perso di vista L'obiettivo Guardati intorno Questo mondo È cupo inesorabile Phoenix Ma è proprio per questo Che impugnerò di nuovo Il mio pennello Per dare speranza Con i miei dipinti Sei molto cambiato Yusuke Sei maturato moltissimo Sì Grazie a te Anziché lasciarmi Nella mia tristezza Hai voluto aiutarmi Cosa che A rileggerlo adesso Mi dispiace Perché Ti ho lasciato Nella tua tristezza La prima volta E mi dispiace Non è stata voluta La cosa Credimi Sfrutterò la mia arte Per cancellare L'oscurità Che avvolge Questo mondo Diventerà Un regno vivido Pieno di speranza Sono certo Che sarà Magnifico A vedersi Forse un giorno Anche tu lo vedrai Phoenix Certo Sono sicuro Che se tu lo dipingerai Io sarò lì A guardarlo Baluardo Oh È bello È bello sentire Che loro si vogliono Sacrificare Per salvarmi Però Sento Crescere in me Una luce radiosa Deve essere La luce della speranza Voglio dipingerla Sono sicuro Che ci riuscirai Yusuke Sono sicuro Che il tuo prossimo dipinto Sarà magnifico Ah Guarda chi si rivede Kawonabe-san State tornando a casa? Sembra che tu Abbia tempo da perdere Yusuke-kun Io Sono tutto preso Dai preparativi Per il concorso A proposito Pensi di partecipare? Proprio così Il tuo orgoglio Potrebbe finire Scottato Dall'esito finale Dopotutto Non sei il solo A puntare Al primo premio Ma in definitiva È a te Che aspetta Decidere Se partecipare Al concorso O no E poi Su Più siamo Meglio è No? Ah 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 Che stronzo Quando fa così Il primo premio Ah già La mia intenzione Era dimostrargli Il mio valore Vincendo quel premio Adesso però Non mi importa più Parteciperò Solo per far sì Che il mio quadro Possa essere osservato Beh Ci vediamo Phoenix Ciao E' bello Anche Il retroscena Della storia Di Yusuke Che per ora Non vi dirò Perché tanto Siamo vicini Alla fine Però Nasconde Un qualcosa Di interessante Due persone Mi scrivono Aiuto Il negozio Aperto EY Se La nostra Amica Ifumi Mi sta Fregando Ovviamente EY Finalmente E' arrivata La tua sera Yeee Sei contento EY Ora ti posso Rispondere EY Sarà La stesso Messaggio Da sempre Il negozio È ancora aperto Passa Se riesci EY Ti sta aspettando Il negozio Vuoi andare da lui? Subito Ok Sbrigati Ed è così Tanto Che non andavo Da EY Che non so Più che voce Dagli L'aria condizionata Deve restare Sua Prescindere Dal clima esterno Per mantenere Bene la mercanzia Se senti freddo Mettiti una giacca Ragazzino Sei qui perché hai letto Il mio messaggio Giusto? Voglio lavorare Ho un lavoretto per te Non preoccuparti Non è difficile Sono certo Che non avrai problemi Sento di potermi avvicinare Perfetto Andiamo a lavorare Dopo aver incontrato Un tizio al dinner Voglio che tu Ti sieda lì Vicino Quando ti do il segnale Chiamami Il segnale È che tossisco Chiaro? Forza Incamminiamoci Beh Io vado a farmi un giro Fammi sapere Quando sei pronto Ad andare via Io continuo a chiedermi Come faccio A fartelo sapere Morgana Però Un dinner eh Credevo che ci venissero Solo i vecchi tromboni Sei cambiato Muse san Mune san Ehi Non esagerare Non è male Ed economico Ah E lo dice la persona Che ha pestato a sangue 50 membri Di una banda rivale Non c'è bisogno Di esagerare Comunque Di cosa volevi parlarmi? Oh Giusto Come se la pazza Tsuda san Come sempre Perché? Che succede? Oh Nulla L'altro giorno L'ho visto in giro Aspetta Non avete tagliato i ponti Quando hai lasciato la famiglia? Perché ti mi chiedi di lui? Andiamo Eravamo giovani Credo sia ora Di seppellire L'ascia di guerra Però Non posso andare Semplicemente A parlargli Oh Capito Cerchi ancora Di rispettare Il vecchio codice d'onore Ok Gli dirò Che vuoi incontrarlo No idiota Voglio solo capitare Nello stesso posto Nella stessa ora Deve sembrare Una coincidenza In tal caso Shibaura Potrebbe andare bene Stiamo pensando A una riqualificazione Shibaura Forse Dovrei chiamarlo Ehi Sei per caso malato? No è solo un raffreddore Pronto? Sì Come va? Come? L'ordine è sbagliato Mi spiace Torno subito Per risolvere la cosa Mi spiace Devo scappare Casini di lavoro Vediamoci ancora Ok? Ci vediamo Non attaccare Masa ancora il telefono Vero? Resta in silenzio Così posso ascoltare Cosa dice Tsuda-san Sono Masa Iwai mi ha chiesto di te Ho fatto come mi avevi detto Che hai da guardare? Ero distratto Scusami No niente Un ragazzino Mi stava fissando Comunque Mi sa che Iwai Ha saputo del tuo accordo E vuole provare a spillarti Un po' di soldi Oh scusa No eh Sì scusami Sì ma ho capito Un accordo Sembra che stia succedendo qualcosa di strano Ora cosa devo fare invece? Per oggi siamo a posto Dopo ti ripagherò di persona Comunque In tutta onestà Non mi aspettavo molto da te Ma a quanto pare Mi sarei piuttosto utile Conto su di te ragazzino Grazie Iwai Sono molto contento Che ti fidi di me Pam 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 Rango 2 Cioè nel senso Quando è che abbiamo fatto La prima volta Il rango 1 Con i Iwai? Quanto tempo è passato? Ottimo lavoro Ora ordina qualcosa di buono Oh e porta lo scontrino Così te lo potrò rimborsare Beh a dopo Mi ha aiutato Ad aumentare la perizia E' bello che alcuni confident Comunque O comunque anche i lavoretti Ti aumentano le statistiche Oltre che a darti il bonus stesso Tipo Lavorare Al crossroad Ti aumenta Se non sbaglio Il coraggio O il fascino Non mi ricordo Il programma di televendita Vai in onda oggi Vuoi dare un'occhiata? Direi di si Manca solo Una settimana All'accordo con me Jed Futaba starà bene? Chi lo sa Andiamo a vedere il programma Grazie a tutti Grazie a tutti.